Ah no, non l'ho visto quello. Ma Farine e Farine. Ma sì, fanno lì, sono comici loro. Cosa Farine? Ma come? Farine e San Costanzo. Ma sì, sono comici. Ma la cammina. Cosa Farine? Ma cosa Farine? Ma fanno teatro come? Ma te la metti. Allora, vi è piaciuto il nuovo film del San Costanzo Show? A me che l'ho visto, sì, lo chiedo a lui perché... Perché? Ah, a cellulare. Ah, a cellulare. Poi è una cosa che io vado al cinema. Eh, lo so. Non aprite quella sporta, il nuovo film giallo comico del San Costanzo Show dal 16 febbraio nei cinema di Fano e Pesaro.